Secondo giorno di raccolta differenziata a Comiso. Risultati in chiaroscuro perché qualcosa non è andato per il verso giusto, ma la macchina organizzativa è stata avviata. L'intoppo maggiore è la mancanza dei secchi per la differenziata, in parte bloccati a causa dell'incendio di Tiburtina. Un quarto delle abitazioni dei residenti non ha ancora ricevuto il materiale necessario, lo avrà nei prossimi giorni. Qualcuno è stato colto di sorpresa perché si trova in vacanza. Il mese di agosto servirà da rodaggio e per questo in città qualche cassonetto è rimasto ancora per qualche giorno. L'assessore Emanuele Amenta però guarda oltre l'ostacolo. Non si parte a metà, si parte al 100%. Si parte al 100% anche se c'è stata qualche defiance per un problema non nostro ma un problema di trasferimento dei bidoncini che purtroppo alla stazione Tiburtina di Roma sono stati bloccati e quindi abbiamo avuto un ritardo di circa tre giorni. Ma nonostante questo, nelle zone dove non abbiamo distribuito ancora i bidoncini, la gente mette il sacchetto davanti alla porta differenziandolo e noi lo raccogliamo regolarmente. In alcune zone i cassonetti non sono ancora arrivati, ancora ieri qualcuno non era stato informato di quanto stava accadendo. Che cosa dovrà fare? Sì, chi non ha avuto ancora il kit dei tre cassonetti deve solamente differenziare e mettere davanti alla porta il sacchetto con la raccolta del giorno. Ieri l'umido, oggi mi pare che c'è il secco. La differenziata non la fanno i secchielli, la differenziata la fa la persona e chi ha buona volontà può differenziare anche senza questi secchielli. Comunque entro giovedì saranno distribuiti al resto della città che è rimasto a circa il 20-25% ancora ad avere questi secchielli.